Sì, grazie Presidente. Con questa mozione chiediamo sostanzialmente di allargare ed estendere ad altri grandi eventi sportivi quello che di fatto avviene soltanto per pochi, pochissimi. Ad esempio faccio riferimento alla Stracittadina, che è un evento dedicato alla corsa per tutti, alla quale partecipano tra i 50 e le 100 mila persone ogni anno. Quest'anno ad esempio è stata attivata una partnership come gli altri anni con le scuole che ha portato benefici ovviamente sia all'evento in termini di partecipazione perché partecipano sempre ogni anno migliaia di bambini, di famiglie e non sto qui a dire quanto sia importante e positivo per tutti a partire dai più piccoli fare attività sportiva. E' apportato beneficio anche alle scuole stesse perché tramite questo accordo particolare che si vuole proporre di estendere agli impianti sportivi le palestre scolastiche sono state dotate di materiale sportivo che poi viene utilizzato tutto l'anno. E quindi in questo caso questa pratica si potrebbe estendere come buona pratica regolare da attivare in ogni occasione presso tutti gli impianti sportivi comunali che diventerebbero una sorta di punto di iscrizione a questi eventi, aumentando quindi la partecipazione della cittadinanza e traendo allo stesso tempo beneficio per le proprie strutture. Grazie.